Ecco Matteo, lo vedete, sciata alla Bernardelli, guardatelo, guardate il nostro Matteo, eccolo, 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 ecco Bernardelli, Bernardelli, grande! Adesso l'alto Graziano, eccolo qua, Anna, ma che sta scappando, ci sta scappando, cerchiamo di raggiungerlo, ardilo, ardilo, vai Vicky, vai Vicky! 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 andremo a morire la mano si dai una discesina tecnica però dai fatta bene così accontentiamo tutta l'automation ci siamo ora stiamo pronti abbiamo una sfida una sfida oggi fra i maestri ci siamo partiamo qui abbiamo graziano davanti che si fa vedere come si stende correttamente qui abbiamo il maestro dai un po di tecnica vogliamo un po di tecnica e adesso non suar via grazie a tutti grazie a tutti